Monsignor Gervasio Gestori Scampetto dell'Oratorio Sciamanna a Castignano. Ecco la sua testimonianza. La presenza del Signore nel nostro mondo e nelle famiglie e per vivere con speranza certa, con fiducia vera. Tre giorni a Montemonaco molto belli, significativi, importanti. Mi auguro che queste famiglie portino nelle loro case, nelle parrocchie, nei gruppi, la bellezza di questa esperienza per trasmettere serenità, speranza e gioia.